Non si muove Non è nitido Come si fa l'aerofocus? Non si toglie l'aerofocus Non si toglie l'aerofocus Arrangiamo Che peccato Ma si muove e non è nitido a piedi Dov'è non si muove Il vio in una barattata Non, non, non ma Allora C'è la barattata Non si muove e oti Oh no! Buiside. 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 e se non lo faccio quando i nostri amici papà ma perché devo evitare che hanno tutti? io sono stato per te e non mi chiedevo a fare nome per la polizia e non mi chiedevo a fare una cosa che è vero e perché loro fra di loro si fanno e si fanno il cuore ma non mi chiedevo a fare il cuore ma si è vero ma viene bene e si è vero e si è vero and it burns, burns, burns the ring of fire the ring of fire I fell into a burning ring of fire I went down, down, down and the flames went